Buonasera e benvenuti a tutti al webinar La Terza 2024, l'autore e l'editore, attività che riservate alle persone iscritte al nostro sito La Terza Libro più Internet. Il primo appuntamento è con il professore Alessandro Barbero che vedete sull'altro lato dello schermo. Il professor Barbero è autore con il professor Alessandro Carocci di un nostro manuale di geostoria per il biennio che si chiama Lo spazio umano, dove vedete alle mie spalle, e anche di un manuale di storia per il biennio intitolato Storia in chiaro, opere di cui siamo molto orgogliosi e che tra l'altro sono il frutto di un lungo lavoro, di un lungo percorso di elaborazione comune. Che tema abbiamo scelto per l'incontro di oggi? Armi, eserciti e soldati nel mondo greco-romano. La traccia, se vogliamo, è relativamente semplice da introdurre. Il tema è quali sono i punti di svolta nel modo di fare la guerra delle città-stato greco fino alla caduta dell'impero romano. L'obiettivo è quello di far capire anche che la guerra ha una storia che è legata certamente a cambiamenti tecnologici, di innovamenti per esempio, e anche di organizzazione del modo di fare la guerra, ma è anche legata evidentemente a quelli che sono gli assetti politici e sociali, a quelli che sono le disponibilità delle risorse economiche, quelli che sono i progetti naturalmente ai quali, o in ragione dei quali, le guerre si sono combattute. Con il professor Barbero, preparando questo incontro, abbiamo ipotizzato di articolarlo certamente in due tappe, e cioè come è cambiato il modo di fare la guerra nelle città-stato greco-romane. Lo dico non casualmente perché anche Roma, certamente, non solo istituzionalmente, ma oggettivamente, per un lungo arco della sua storia, è una città-stato confrontabile per molti aspetti, una città-stato greca, e poi invece la dimensione della guerra in quelle che sono le grandi organizzazioni imperiali, certamente dall'impero macellone, ma poi ovviamente anche all'impero romano, nella sua stagione, non voglio dire più evoluta perché mi sembra una parola poco appropriata, ma diciamo nella sua stagione di maggiore espansione nel vaccino italiano. Quindi Alessandro, volendo presentare questa materia molto complessa, e partendo dalla dimensione della città-stato, quali sono le tappe fondamentali del modo di fare la guerra nel mondo delle città-stato greche e romane. Ma dunque, diciamo che quando in qualunque epoca, in qualunque società, si vuole provare a descrivere la dimensione militare, ci si accorge subito che appunto la guerra non è un aspetto del tutto separato dal resto della vita collettiva. Il modo in cui una società fa la guerra è un riflesso della sua struttura sociale, della sua organizzazione politica, anche della sua disponibilità economica naturalmente, ecco. Quindi in realtà, come dire, parlare di un'evoluzione significa descrivere fasi diverse, sostanzialmente, no? E direi che la cosa più che balza all'occhio per prima, ovviamente, anche qui, descrivere i modi in cui si fa la guerra, uno potrebbe dire, vabbè, è chiaro che la cosa più importante è parlare delle armi che si usavano, visto che fare la guerra significa cercare di uccidere, ferire o spaventare un nemico che ti trovi di fronte per sconfiggerlo, no? Ma naturalmente le armi le usano degli uomini e in realtà probabilmente il modo più importante per cominciare a far capire il rapporto fra il modo di fare la guerra e una società nel suo complesso è proprio andare a vedere chi fa la guerra. Ci sarebbe poi, a dire la verità, un terzo aspetto che è forse ancora più importante a Monte e cioè già qualche secolo fa è stato chiarito una volta per tutte in Occidente che per fare la guerra, come disse credo Raimondo Montecucco, il grande condottiero italiano del XVII secolo, mi pare che sia lui che l'ha detto, quello che sto per dire adesso, anche se poi molti lo hanno ripetuto, per fare la guerra ci vogliono tre cose, denaro, denaro e denaro. E su questo appunto non esiste alcun dubbio, salvo che, forse per mia ignoranza, ma non credo solo per quello, sull'aspetto economico, finanziario, su quello che si spendeva per fare la guerra nel mondo greco o nel mondo romano, non mi sembra che siamo così ben informati, ecco fondamentalmente. Non siamo forse troppo ben informati neanche in generale sui bilanci di questi stati, che fossero poleis o che fossero imperi. E quindi, ecco, questo aspetto qua, che pure sarebbe forse il vero punto da cui partire, lo lasceremo piuttosto in ombra. Mentre parleremo di chi fa la guerra. Allora qui, molto schematicamente, non solo nell'epoca antica, ma un po' in tutte le epoche, compresa la nostra contemporanea adesso, anno di grazia 2024, c'è una differenza, ci sono due modi fondamentalmente con cui una società organizzata può fare la guerra. E cioè farla fare ai propri cittadini, convocandoli tutti attraverso obblighi di legge più o meno precisamente regolamentati e senza pagarli più di tanto, al limite pagandogli le spese, ma appunto senza preoccuparsi di dove trovare il materiale umano, in quanto i cittadini stessi lo formano e sono obbligati in un modo o nell'altro a farlo, e l'altro modo è fare la guerra per mezzo di mercenari. Mercenari che possono poi essere ben inteso anche cittadini dello Stato, che però non fanno la guerra perché sono obbligati, ma perché vengono pagati per farlo. Oppure mercenari proprio nel senso più stretto del termine, cioè non ci importa chi sei e dove sei nato, la Wagner ti arruola. Al di là del fatto che cito la Wagner, perché i nostri giornali citano la Wagner, ma tutti sanno che anche gli Stati Uniti hanno organizzazioni analoghe di mercenari, salvo che li chiamano contractors. E questo suona incredibilmente meglio, anziché dire mercenari. Mercenari si riserva alla Wagner. Allora, storicamente questa alternanza, appunto, come ben vedete, è una cosa che ci riguarda anche nel nostro presente. Noi siamo usciti da due secoli, l'Ottocento e il Novecento, nel corso dei quali gli Stati, gli Stati liberali, ma anche gli imperi autoritari hanno elaborato un sistema per cui tutti i cittadini dovevano fare il servizio militare e questo ha reso possibili gli eserciti di milioni di uomini che hanno combattuto la prima e la seconda guerra mondiale. E poi progressivamente c'è stato uno slittamento verso eserciti molto più piccoli fatti di soldati di professione. In paesi come l'Italia oggi sono tuttora cittadini italiani che però non lo fanno perché sono obbligati e hanno ricevuto la cartolina, ma lo fanno come un mestiere, no? Ecco, questa evoluzione è significativa anche per capire altre epoche storiche. Già che ci sono, a non che io voglia, come dire, approfittarne per allontanarmi dall'antichità, di cui so poco, e parlarvi invece del Medioevo, di cui so un pochino di più, però si tenga conto che un'evoluzione molto simile a quella che adesso accennerò per le città-stato antiche si ritrova anche nelle città-stato medievali, perché i comuni italiani danno per scontato che tutti i cittadini devono combattere per difendere la città e sono eserciti di cittadini quelli che affrontano il Barbarossa e che lo sconfiggono a Legnano, è un esercito di cittadini ancora quello in cui combatte Dante a Campaldino nella vittoria dei Fiorentini e dei Elfi contro gli Aretini e i Ghibellini e poi invece dai primi decenni del Trecento nelle città italiane i cittadini cominciano ad accorgersi che avendo una marea di soldi e un sacco di affari di cui occuparsi, andare via per fare la guerra anche solo per qualche settimana è una grandissima seccatura e sembra un'idea meravigliosa dire vabbè anziché star via qualche settimana e perdere un sacco di soldi con una piccola parte di quei soldi paghiamo dei mercenari e che la guerra la facessero loro al nostro posto. Poi l'Italia a quel tempo, i comuni italiani impareranno che non è necessariamente un'idea geniale per fare la guerra ai mercenari anziché ai cittadini, ci sono dei pro e dei contro, Machiavelli si metterà le mani nei capelli dicendo per questo che l'Italia va in rovina, ecco, ma intanto l'hanno fatto. Allora, fatta questa premessa, tornando ancora indietro nel tempo, anche le città-stato antiche hanno conosciuto uno sviluppo di questo genere. Le città-stato greche sostanzialmente sono comunità di cittadini dove ogni uomo libero, maschio, cittadino, ha a casa l'elmo, lo scudo, la lancia e quando si fa la guerra arriva la convocazione, partono tutti, partono alcune classi di età, poi dipende insomma, se siamo a Sparta che è organizzata in reparti militari precisi, parte quel locus e quell'altro, gli altri restano a casa, va bene, ma in ogni caso per una città-stato greca, per una polis greca, fare la guerra significa decidere quanti dei nostri cittadini partiranno per questa spedizione. È chiaro che questo comporta delle limitazioni all'ampiezza delle operazioni che si possono concepire. Un conto è se ti devi difendere e ti devi difendere e combatti sotto le mura di casa, allora è chiaro, tutti i cittadini rispetto, visto che l'alternativa è che i persiani prendano la città e la brucino, tutti i cittadini scendono in campo, poi magari i persiani la prendono lo stesso e la bruciano naturalmente, ma intanto l'esercito è fuori ed è pronto alla rivincita. Operazioni di lungo raggio è più complicato farle, i cittadini possono stare via da casa qualche settimana, più ne mandi più è complicato concepire operazioni di vasto raggio. Un esercito spartano può entrare nell'attica, io non ho mai fatto il conto ma credo che ci mettessero pochi giorni a piedi comunque sostanzialmente, stanno nell'attica per un po' di tempo, gli ateniesi si chiudono in città perché quelli là fuori non sono quelli i tebani o gli argivi ai quali andremmo a dare una bella lezione, quelli sono gli spartani, quindi tutto sommato è meglio se lasciamo perdere, ci chiudiamo dentro, tanto gli spartani fuori cosa vuoi che facciano? Tagliano le viti, tagliano gli ulivi, certo tutti quei cittadini che abitavano fuori città si lamentano, il governo vacilla, va bene, ma tanto tutti sanno che gli spartani fra qualche settimana se ne vanno a casa, perché anche loro poveretti hanno altro da fare nella vita e non soltanto la guerra, benché gli spartani poi tendessero appunto invece a specializzarsi, però pure loro dovevano tornare a casa a un certo momento. Il massimo di ampiezza che una cittastato può immaginare con un esercito di cittadini mandato a intraprendere una campagna molto ambiziosa è giusto, come dire, la campagna di Atene contro Siracusa durante la guerra del Pero Ponneso, ecco, mandare un esercito da Atene a Siracusa è un'impresa ambiziosissima, colossale e quando va male, perché come ricordate tutti va a finire molto male, aver perso non so più se 10.000 cittadini, 10 o 15.000 cittadini in quell'impresa per Atene è una botta da cui non si riprenderà mai più veramente a dire tutta la verità. Quindi appunto la guerra della cittastato che dispone di un esercito fatto di cittadini può avere un'ampiezza limitata. E Roma è la stessa cosa. Anche Roma è una polis naturalmente, non è greca, però il modello della città che si governa da sola, dove tutti gli abitanti maschi liberi sono cittadini, con una serie di istituzioni bene o male rappresentative e con un esercito formato dai cittadini stessi, ovviamente appunto è la polis greca ma anche le poleis etrusche o italiche erano la stessa cosa. Roma quindi all'inizio è la stessa cosa, un esercito di cittadini. Salvo che Roma, come dire, rispetto alle città greche comincia molto presto ad avere ambizioni imperiali e non a caso Roma fa una politica molto diversa rispetto alle poleis greche per quanto riguarda la concessione della cittadinanza. Cioè finché l'esercito romano è fatto di gente che abita nella città di Roma, tu puoi fare la guerra contro Veio, puoi fare ancora ancora diciamo la guerra contro i Sanniti, al limite forse puoi fare la guerra contro Pirro quando sbarca in Italia, ma già quella è un'impresa. In realtà già a quel punto Roma non è più soltanto la città di Roma. L'espansione di Roma si basa sul fatto che noi man mano che ci allarghiamo estendiamo il diritto di cittadinanza e quindi il reclutamento dell'esercito e dove non diamo la cittadinanza alle città che abbiamo comunque aggregato al nostro Stato però li trattiamo come alleati con uno status diverso ma gli chiediamo comunque di mandarci i loro cittadini in appoggio al nostro esercito. Questa è una cosa che nessuna città greca fa. Le poleis greche al massimo fanno delle alleanze. Quelli di Atene hanno la loro la lega di Delo e una serie di poleis e isolette che sono obbligate malvolentieri ad aiutare Atene ma l'esercito ateniese sono i cittadini di Atene e solo quelli. L'esercito romano invece è un esercito di cittadini però di una città che pian piano si allarga che in realtà diventa una regione e che a un certo punto diventerà quasi tutta l'Italia. A un certo punto in quasi tutta Italia gli uomini liberi saranno o cittadini romani o soci comunque con uno status che fa sì che le loro formazioni militari siano integrate nell'esercito romano e in questo modo l'esercito romano può pur essendo fatto di cittadini continuare come dire no impegnarsi in guerre di espansione le guerre puniche per esempio no di una scala che è inconcepibile invece per una città greca. Detto questo i romani fino al tardo impero conserveranno come una cosa come dire talmente strutturale che non può essere mutata l'idea che le legioni sono fatte da cittadini romani e che in più tutti gli altri reparti che raddoppiano l'esercito e anche più quelli sono formati da ausiliari che con uno status o con un altro non sono però cittadini. Questa cosa diciamo nel nel terzo o nel quarto secolo non aveva mica più molto senso concreto eh a dire il vero e tuttavia ce l'avevano talmente anche perché la cittadinanza romana si era largamente diffusa intere regioni dell'Europa avevano la cittadinanza romana ma questo concetto per cui legionario vuol dire civis è un cittadino romano e invece gli ausiliari sono un'altra cosa questa cosa qui è strutturale dell'organizzazione militare romana. A questo punto però Alessandro se la sto facendo troppo lunga e hai altre tredici domande in lista d'attesa dimmelo eh però perché non è però direi ancora questo perché visto che vogliamo parlare del cambiamento allora anche le polis greche a un certo punto cominciano a pensare che visto che ci sono tanti soldi da spendere questo vale per Atene soprattutto beh potremmo anche pagare degli specialisti non per sostituire i cittadini ma per affiancarli anche perché nel mondo greco già all'età della guerra del Peloponneso accanto all'oplita e con scudo, elmo e lancia che forma la fanteria di linea ci sono già come dire degli specialisti no? Li abbiamo sentiti nominare tutti perché ne parlano anche i manuali, i frombolieri cretesi, i peltasti tracci e quelli sono specialisti, i reparti che fanno la guerra in modo diverso dal grosso dell'esercito della polis fatto di opliti, quelli li paghi e quindi come dire il concetto comincia a esserci però in realtà la città stato continuerà invece come base dell'esercito a contare sui cittadini diversamente dagli imperi se poi parliamo di Alessandro e dei Macedoni vedremo che le cose vanno diversamente. Roma farà una cosa un po' diversa nel senso che a Roma per molto tempo si continuerà come ho detto a basare l'esercito sulla cittadinanza, gli opliti addio, i legionari di Mario e Silla o i legionari di Cesare e Pompeo sono cittadini ma è ormai chiaro che in una struttura sociale come quella non della metropoli Roma ma dell'intera Italia c'è un bacino di reclutamento che significa che tu non hai più bisogno di chiedere a tutti i cittadini per obbligo di andare in guerra. I cittadini ormai sono milioni, non è come Sparta che già nel quarto secolo di cittadini credo che ne abbia mille o duemila e quindi quando deve fare la guerra devono per forza andare tutti. Roma ha un bacino di reclutamento di cittadini immenso e quindi quando si fa la guerra a Roma a partire da un certo momento, credo dopo le guerre puniche, sostanzialmente la guerra non vuol più dire che arriva un manifesto, un bando di reclutamento e la gente anche se non ha nessuna voglia deve andare. Si reclutano quelli che non hanno di meglio da fare nella vita e in una struttura sociale come quella trovi sempre l'immigrato che ha perso il lavoro, il disoccupato, il contadino che è andato in crisi ha dovuto vendere la terra e quindi trovi facilmente una massa di persone che sono tecnicamente cittadini ma proletari e che sono quindi disposti ad arruolarsi non per la guerra ma per la vita sostanzialmente. Quindi lì abbiamo un ibrido, un esercito fatto sempre di cittadini ma che in realtà è diventato un esercito di mestiere. Alessandro, prima di, anche perché quel tempo corre, di invece passare alla dimensione imperiale del modo di fare la guerra, ci è arrivata una bellissima domanda, bella così piatta, che differenza c'è tra il modo di fare la guerra dei greci e dei romani, posto che ci sia naturalmente. È certo. Radicale ma interessante. Naturalmente vi rendete conto anche da quello che stiamo dicendo e da questa domanda che fare la guerra vuol dire tante cose diverse. Perché io in realtà finora ho già parlato di una differenza nel modo di fare la guerra. Perché un conto è se tu fai la guerra in uno spazio geografico limitatissimo per difendere il tuo territorio o per andare a dar fastidio al tuo vicino e un conto è se fai la guerra perché il senato ha deciso di conquistare la Spagna. No, ecco, sono due modi diversi di fare la guerra, ma la domanda pensa al modo di combattere, suppongo. Ecco, questo è importante dirlo perché il modo di combattere è al centro di tutto, ma non è tutto. Noi ovviamente quando pensiamo alla guerra la nostra cultura ha elaborato certi parametri tipo le grandi battaglie, no? Ecco, da quando nell'ottocento uno storico inglese ha scritto per la prima volta un libro intitolato tipo le venti battaglie decisive della storia del mondo, dove le battaglie decisive della storia del mondo ovviamente quali sono, maratona quando noi occidentali abbiamo sconfitto i malvagi orientali, no? Ecco, Azancourt quando noi inglesi abbiamo sconfitto i vili francesi, Waterloo stessa cosa quando noi prodi inglesi abbiamo sconfitto quei cialtroni dei francesi, Lepanto quando noi occidentali cristiani abbiamo sconfitto i malvagi musulmani orientali, Poitiers quando noi cristiani occidentali abbiamo sconfitto i malvagi arabi orientali. Come vedete non c'è niente di ideologico in queste concezioni delle battaglie decisive della storia, no? Però appunto noi siamo cresciuti con questa idea, le battaglie decisive, i grandi generali e i grandi generali della storia per noi chi sono? Pensiamo a quelli della seconda guerra mondiale che magari ce li ricordiamo ancora un po' meglio, se uno dice i grandi generali della seconda guerra mondiale, a uno può venire in mente che ne so, Rommel, la volpe del deserto, Rommel fu celeberrimo già all'epoca quando comandava due divisioni, una forza minima su un teatro del tutto secondario, ma era uno di quei generali brillantissimi, col colpo d'occhio, che vincono battaglie in condizioni apparentemente disperate, famosissimo, grande generale, Eisenhower, che per qualche anno ha comandato la più grande forza militare della storia, multinazionale, operativa su un arco di diversi continenti, con una capacità organizzativa e logistica e politica enorme. Nessuno lo considera un grande generale della storia, perché non te lo vedi su un campo di battaglia, sulla torretta di un carro armato che ordina la carica, no? Ecco, qui questo è per dire che mentre la guerra è un fenomeno molto complesso e stratificato, nel nostro immaginario poi la cosa centrale è il combattimento. Questo va benissimo perché poi non c'è guerra senza il combattimento ed è anche nel combattimento che si rivela come il modo di fare la guerra rispecchia la società, però poi in realtà alla fin fine rimane vero che il combattimento è soltanto un microcosmo all'interno di quel macrocosmo enormemente più complesso che è la guerra. Questo fra l'altro in gergo di chi si occupa di cose militari, lo dico perché magari non tutti, noi sì, ma magari i nostri ragazzi non hanno chiaro questo significato di queste parole, una cosa è la strategia e una cosa è la tattica. La strategia riguarda appunto l'organizzazione di una campagna militare, gli obiettivi da raggiungere, i movimenti di grandi masse di truppe nell'arco di settimane, di mesi, di anni. La tattica riguarda invece cosa succede quando c'è una mitragliatrice nemica che difende una casa in rovina e tu hai una compagnia di Marines e quella casa la devi prendere. Allora, come si combattevano in antichità e che differenza c'è fra i greci e i romani? All'ingrosso non poi tantissima, intendiamoci, perché primo sono tutti eserciti di fanteria, hanno della cavalleria ma ha un ruolo secondario nel combattimento. Magari mi fermo un attimo su questo perché anche questo è molto significativo. Nessun esercito poteva cavarsela senza cavalleria, ma non perché la cavalleria la usi in battaglia, in battaglia non la usi, mica mandi contro una massa di fanti tutti ben addestrati e tutti ammassati lì e tu li carichi con quei quattro cavalieri che hai, ridicolo. Però quando hai bisogno di sapere se il nemico è già arrivato a distanza di una giornata di marcia o invece è ancora più lontano, allora devi avere della cavalleria che va in giro, veloce, a vedere. No, ecco, la cavalleria serve a quello, un aspetto della guerra fondamentale, la raccolta di informazioni che però non è il combattimento. La cavalleria, i greci e i romani ce l'hanno anche per un altro motivo, che i figli di papà con tanti soldi in tasca in guerra ci vogliono andare a cavallo. Questa è una distinzione sociale sia nelle poleis greche sia nella società romana. I cavalieri in un modo o nell'altro hanno un ruolo anche socialmente elitario. E qui vi ricordo per chi si occupa di cose greche c'è addirittura una commedia di Aristofane che si intitola I cavalieri, no? Ecco, che per un eteniese capiva subito cosa voleva dire. I figli di papà, i ricchi, i giovani ricchi. Allora, l'esercito che combatte è fatto di fanteria. Ci sono arcieri, frombolieri con le fionde, roba del genere, macchine da guerra. Sì, ci sono perché non si rinuncia a niente, ma non hanno un'importanza centrale. E questa è di nuovo una cosa che per noi è difficile immaginare perché noi abbiamo interiorizzato in modo così totale, dopo l'invenzione delle armi da fuoco, che la guerra si fa sparando a un nemico lontano, che fatichiamo, cioè fatichiamo. Io no, però gli sceneggiatori di Hollywood sì, invece. Faticano a immaginare cos'è una battaglia in cui l'essenziale non è sparare lontano. Ecco perché quando nel gladiatore, nel film del gladiatore, si raffigura la battaglia iniziale, ed è una raffigurazione sotto certi aspetti molto ben fatta e credibile, però non riescono a rinunciare all'idea che la battaglia comincia con le catapulte che scagliano palle di fuoco nei ranghi del nemico. Le catapulte servivano per assediare le città, si muovevano più lentamente di una vecchietta col bastone, si portavano dietro carri carichi di pietroni, venivano portate in giro, smontate e le montavi sotto le mura della città con l'idea fra una settimana cominciamo l'attacco. In battaglia non le usavi. Usavi appunto un po' gli arcieri, va bene, sperando che qualche nemico ci rimanesse un po' rallentato nei movimenti perché aveva troppe frecce piantate nello scudo e poi fine. Quella non è la battaglia. La battaglia è noi tutti insieme che andiamo avanti, o forse no, noi stiamo fermi ad aspettare, vediamo se vengono avanti quelli là. Si può rimanere anche per un bel po' a guardarsi a una certa distanza facendosi gestacci, insultandosi, dicendo vieni avanti, sai coraggio. Questa cosa può essere addirittura organizzata, i legionari romani a un certo punto cominciano a battere le lance contro lo scudo, i giavellotti contro lo scudo, producendo un rumore, un boato di fondo che serve a spaventare il nemico. Altri eserciti, i parti hanno questi tamburi, questi timpani che battono ossessivamente, sono tutti fermi e si guardano. Ognuno spera che l'altro si spaventi per primo. Uno comincia ad andare dentro quando vede che l'altro dà qualche segno di incertezza. Il momento in cui vai dentro è brevissimo in realtà e non succede assolutamente come succede nei film anche lì del Signore degli Anelli, che tu vedi due immense masse che si mettono a correre tutte e due contemporaneamente e poi si mescolano e per tutta la pianura sono botte da orbi, duelli, non è niente del genere. Da quello che a me sembra di aver capito, una battaglia sia dei greci sia dei romani, poi arriviamo alle differenze, ma fin qua si va in parallelo. Una battaglia sia dei greci sia dei romani e era una cosa che assomigliava molto di più a quello che noi vediamo nelle nostre piazze quando c'è il corteo e il corteo fa massa e dal corteo ogni tanto viene fuori qualche gruppetto più coraggioso degli altri che magari ha anche il casco da motociclista e magari ha anche dei bastoni o comincia a tirare sassi e dall'altra parte c'è la polizia schierata, tutti quanti ovviamente in armatura con i loro elmi e i loro scudi e si fronteggiano e si insultano e si parlano fino a quando in quei casi in genere è la polizia che è meglio armata, che va dentro quando decide che è il momento di andare dentro. Così era una battaglia antica fondamentalmente. E quando uno dei due va dentro bisogna vedere se l'altro resiste. Non dura moltissimo perché ci si stanca in fretta, non si mescolano chissà quanto, sono quelli davanti che menano e non ci sono moltissimi morti, sono comunque tutti bene o male abbastanza armati e protetti, fanno massa. Certo qualcuno si fa male, qualcuno viene ammazzato, qualcuno dei nostri e qualcuno dei loro, però di più dei loro e infatti noi spingiamo, spingiamo e andiamo avanti fino a quando? Fino a quando quelli lì si spaventano e ognuno decide di filare, che però è il momento in cui a questo punto li ammazziamo davvero. Li inseguiamo e quelli che becchiamo li ammazziamo. È lì che ci sono le perdite pesanti se chi ha vinto decide di inseguire. Bisogna dire che i greci in generale non inseguivano troppo perché, come dire, intanto non erano professionisti. E poi cosa c'è di più bello quando vedi il nemico che scappa? Che fermarti, rendere grazie agli dèi, fare una bella libagione, raccattare le armi dei caduti nemici, erigere il trofeo e tornare a casa festanti e dare una buona notizia. Tucidide, quando racconta le battaglie della guerra del Peloponneso, che sia una grande battaglia o un piccolo scontro, sempre conclude la descrizione dicendo quelli che hanno vinto, che ne so, e gli argivi, e gli argivi, eressero il trofeo e se ne andarono a casa. Erigere il trofeo è assolutamente fondamentale perché gli dèi e gli uomini devono vedere chi è che ha vinto. Inseguire il nemico, chi se ne frega, tanto abbiamo vinto. Ora, fin qua la dinamica complessiva è quella, solo che i greci sono meno professionali dei romani fondamentalmente, con l'unica eccezione degli spartani, che infatti tendenzialmente in questi casi vincono, e che sono invece più professionisti. Lo spartiata è un professionista, poi l'esercito spartano chiaramente non è fatto soltanto dalla ristretta elite degli spartiati, ci sono anche reparti di perieci, va bene, ma comunque, comunque gli spartani passano la vita ad allenarsi e a ragionare su come si fa la guerra, e quindi partono già organizzati in reggimenti, ognuno con un suo comandante, con un posto preciso nella linea. Gli altri, per quello che ne sappiamo, non hanno un'organizzazione così strutturata. Al momento del combattimento i comandanti schierano gli opliti, ecco. Si può supporre che gli amici cercassero di stare vicini, quelli dello stesso quartiere cercavano di stare vicini, ma alla fine tu hai una massa, alcune file, alcune righe di opliti, ecco, e poi speri in Dio, sostanzialmente. I romani, rispetto a questo, sono fin dall'inizio molto più professionali, e cioè tutte quelle cose che io ho sempre trovato impossibili da imparare e odiose e noiosissime, tutti quei grafici che abbiamo sui nostri manuali, e cioè avete presente, no? Gli astati, i principes, i manipoli, le corti, tutti quegli schemini, vogliono però dire una cosa concreta, e cioè che i romani, quando schieravano le truppe, avevano uno schema in testa che ogni soldato, oppure se anche nella fase iniziale in cui il legionario era un cittadino partito da casa pochi giorni prima, però aveva il suo posto, sapeva a che manipolo, a che coorte, a che legione apparteneva, sapeva chi era il suo centurione, sapeva se doveva stare in prima fila o in seconda o in terza, e questo garantiva indubbiamente una flessibilità maggiore, un maggior controllo dei comandanti su quello che facevano le truppe, perché capite, anche se in realtà le truppe rimangono sempre abbastanza staccate dal nemico, tranne nel momento dello scontro vero, però tu fai arrivare molto meglio degli ordini, se il tuo esercito è organizzato in reparti con una gerarchia precisa e ogni soldato sa da quale ufficiale deve prendere gli ordini, e anche così era difficile. Tucidide racconta la battaglia di Mantinea del 418 a.C., quando riprende la guerra del Peloponneso e gli Ateniesi sono del Peloponneso e gli Spartani che ultimamente hanno avuto un po' di delusioni e hanno un po' perso la loro fama di invincibilità, vanno ad affrontare gli Ateniesi e gli Ateniesi per una volta tengono duro perché si sono abbastanza convinti che gli Spartani sono sopravvalutati e il comandante Spartano, che credo sia il re Agide, decide di provare una manovra, di far spostare due dei reggimenti dei locoi della sua linea in modo da rafforzarsi in un altro settore. Già che abbia tentato questo e che Tucidide lo racconti è una cosa abbastanza eccezionale, un comandante greco in genere non è in grado di fare delle manovre di questo tipo e in realtà non è in grado neanche il re spartano perché il movimento si rivela pasticciato, i due reggimenti non sanno più dove devono andare e per un attimo sembra che vada tutto malissimo. Dopodiché però a quel punto gli Spartani risolvono tutto perché comunque fanno suonare i flauti, vanno avanti lo stesso anche in questo disordine e gli Ateniesi a quel punto si prendono paura e non osano perché vedersi venire addosso, gli Spartani comunque è superiore alla resistenza umana restare lì, ecco. I romani invece manovrano, ecco questo lo posso dire, manovrano professionalmente. Alessandro siccome stiamo diciamo con tempi molto stessi riusciamo a focalizzare invece l'attenzione sulla dimensione altra che abbiamo evocato cioè quella della guerra degli imperi, in parte l'abbiamo parlando di Roma l'abbiamo toccata, ma insomma che cosa cambia e quali sono i meccanismi che cambiano e quali sono per così dire l'assetto e l'aspetto che prendono di fare la guerra. Certo. Allora beh dunque fondamentalmente anche se nessuno ovviamente all'epoca dice vabbè questo qua è un impero quindi facciamo le cose diversamente. Bene o male si parte sempre dalle stesse realtà concrete, il combattimento è quello, ma l'impero tipicamente deve prevedere di pagare i soldati e di avere o dei professionisti a lunga ferma o dei mercenari assunti per l'occasione. Quando Alessandro Magno invade la Persia, cioè fa qualcosa che nessuna polis greca da sola avrebbe potuto fare, però ha dei robusti contingenti di opliti greci che vengono dalle varie città greche ed è una novità, è il frutto delle lunghe guerre. Già durante la guerra del Peloponneso che per la prima volta impegna le polis greche in una guerra che dura molti anni, una cosa che prima era inconcepibile, le guerre duravano un'estate, invece la guerra del Peloponneso ogni estate ricomincia e alla fine sarà durata decenni e quindi in tutte le città ci sono uomini che si sono abituati a fare la guerra e sono ormai più abituati a fare la guerra che non a vivere in città in tempo di pace. Poi in tutte le città ci sono uomini che sono caduti in disgrazia, condannati che sono scappati, latitanti, gente politicamente inaffidabile che è stata mandata via e tutta questa gente cosa può fare? Beh molti di loro hanno imparato a fare la guerra e quindi quindi Alessandro non fa fatica a trovare mercenari greci i quali vengono da città che magari fino a un attimo prima si sono fatte la guerra fra loro ma adesso invece sono tutti insieme e questo appunto comincia alla fine della guerra del Peloponneso, comincia già all'epoca di Senofonte, Senofonte è già quello no? Senofonte è un'ateniese che sa fare la guerra e quando viene a sapere che il principe persiano Ciro sta reclutando un esercito perché vuole sconfiggere suo fratello e prendere il potere nell'impero persiano, Senofonte fa due conti, si informa di quanto è lo stipendio e ci va e nella fanteria greca al servizio di Ciro incontra degli spartani per esempio, Clearco con i quali diventa amicissimo perché in quel momento non importa che un atteniese l'altro è spartano, siamo tutti greci mercenari al servizio dei persiani e faremo vedere a questi persiani chi siamo noi greci, gliela abbiamo fatto vedere ai vecchi tempi di Maratona delle Termopili, gliela faremo vedere anche adesso, anche adesso che è un persiano che ci paga, no ecco, quindi mercenari sostanzialmente, il che vuole anche dire una crescente multietnicità dell'esercito. L'esercito di Alessandro è ancora tutto sommato abbastanza un esercito greco, oltre che macedone e naturalmente come sapete se i macedoni fossero greci è una grande questione, i macedoni dicevano di sì e gli altri greci dicevano di no, ma comunque, ma già i diadochi, i generali di Alessandro che poi diventano faraoni dell'Egitto, i Tolomei, re di Siria, i Seleucidi, re di Pergamo, gli Attalidi, che si ricavano questi grandi regni in un oriente che è grecizzato sì nelle elite e nelle aristocrazie cittadine, ma che poi ha la sua popolazione locale naturalmente, no ecco, quindi gli eserciti di questi grandi regni sono da appunto eserciti assolutamente multietnici. Il massimo del multietnico però sarà l'impero romano, perché l'impero romano, primo, è diventato un impero occupando immensi territori, sottomettendo gli abitanti di quei territori, dopodiché gli indigeni della Gallia o della Spagna, prima di diventare cittadini romani ci vorrà molto tempo, ma già da indigeni vengono reclutati, già da indigeni si reclutano reggimenti, di nuovo appunto come dicevo prima, mai legioni, le legioni solo fra i cittadini, ma fra gli indigeni reclutiamo i reparti ausiliari e quindi non c'è nessun problema ad avere cavalleria fatta da Galli o da Germani addirittura. A quel punto una volta che ti abitui all'idea che puoi reclutare gli indigeni che hai dentro l'impero, anche se questi indigeni sono abbastanza barbari tutto sommato, però noi li reclutiamo lo stesso. E allora a quel punto chi ti impedisce di reclutare anche degli altri barbari? Che semplicemente non sono indigeni nostri, non vivono dentro l'impero, vivono fuori, ma per il resto, come dire, che differenza fa? Barbari gli uni, barbari gli altri. Già al tempo di Augusto l'esercito romano dispone di reparti ausiliari, come dire, reclutati fra gente che è fatta di barbari a tutti gli effetti. Poi i capi di questi barbari diventano cittadini romani, fanno carriera nell'esercito romano, per lo più restano fedeli. Qualcuno tradisce. Pensa ad Arminio, pensate, scusatemi, pensate ad Arminio, che noi pensiamo come al capo della grande rivolta germanica che vince la battaglia di Teutoburgo annientando le tre legioni di Varo e stoppando l'espansione di Augusto verso la Germania. Arminio, a cui in Germania, ai tempi del Kaiser Guglielmo, costruivano meravigliosi monumenti in cui lo vedevi con l'elmo cornuto da barbaro per l'appunto. Ora Arminio, si chiamava Caio Giulio Arminio, era cittadino romano, cavaliere romano, comandante di un reparto dell'esercito romano, però il reparto era reclutato nella sua tribù, i Cheruschi, quindi barbari germani con il loro capo. Il capo però è diventato un ufficiale romano naturalmente e questa multietnicità è tanto maggiore in quanto l'impero romano ovviamente si espande anche a Oriente e quindi reggimenti di cavalleria, di arceri a cavallo siriani supponiamo, no? O di cavalleria araba e anche saracena, cioè reclutata fra i beduini del deserto. Nell'esercito romano c'è assolutamente di tutto e questi reggimenti vengono reclutati in un posto e poi magari sbattuti a duemila chilometri di distanza, per cui in un castrum sul Reno i nostri archeologi poi trovano l'altare votivo di un dio arabo a cui il reggimento arabo che è stato sbattuto lì a Treviri continua a praticare i suoi sacrifici. In questo senso l'esercito romano è pieno di barbari, benché i legionari invece come dicevo siano tutti cittadini e sarà sempre più così nell'epoca del tardo impero romano e delle invasioni barbariche. Ricordo, lo so che abbiamo, devo correre, ma ricordo ancora questo perché è veramente emblematico. Dopo la battaglia di Adrianopoli, 378, sconfitta dell'esercito romano d'Oriente, morte dell'imperatore Valente, i goti vittoriosi assediano Costantinopoli, è l'inizio delle invasioni barbariche. Quindi i goti, i barbari vittoriosi che hanno invaso l'impero assediano Costantinopoli. Da Costantinopoli esce per una sortita un reparto dell'esercito romano. Il reparto dell'esercito romano è fatto di beduini arabi a cavallo che combattono nudi col pugnale fra i denti e che si avventano sui goti. Il primo beduino abbatte il primo goto, lo azzanna alla gola e comincia a bere il suo sangue. A questo punto i goti, terrorizzati dalla barbarie assoluta delle truppe romane che si trovano di fronte, si danno alla fuga. E lì, appunto, chi sono i barbari? Se siano i goti che come aspetto sembrano dei legionari, hanno le armi dei romani. I veri barbari sono appunto questi selvaggi bruni a cavallo, però loro sono truppe regolari dell'esercito romano. Bella, una bella contraddizione. Dunque, Alessandro, mi dispiace perché devo dirti che abbiamo una quantità infinita di domande tutte interessanti, non credo che riusciamo a, purtroppo, dare risposte puntuali. Ti chiederei solo una riflessione conclusiva, e cioè sull'ideologia della guerra, argomento complicato. Sto pensando, lo ammetto, soprattutto a Roma, ma è chiaro che si può andare anche indietro nel tempo. In particolar modo, penso al concetto molto romano di guerra giusta da un lato, e quindi il fatto che tu fai guerra perché bene o male, per così dire, hai delle ragioni che ti sostengono e che ti autorizzano o addirittura ti obbligano a muovere guerra, come anche l'ambiguo, quanto ce l'abbiamo detto, se vuoi la pace prepara la guerra, altra, come dire, formula che è stata variamente riprodotta nel tempo, fino a tempi recenti, e che si presta, ovviamente, anche essa a molte ambiguità. Tu come, diciamo, non descriveresti, ma come dire, come rappresenteresti questa idea che esiste una guerra giusta e che il presupposto della pace è essere pronti alla guerra? Allora, beh, questa è una domanda importantissima, infatti sono contento di rispondere a questa, e mi scuso con tutti gli altri che ci ascoltano e che ne hanno poste altre altrettanto interessanti, ma questa è veramente verità, anche perché il modo in cui una società concepisce la guerra, si rapporta con la guerra, è una cosa estremamente significativa, secondo me. E qui, mi permetto anche qui di fare un piccolo allargamento al presente, noi oggi in Occidente, dopo le tragedie del Novecento, abbiamo elaborato in modo molto approfondito un ripudio della guerra, per citare la nostra Costituzione, che fino a qualche anno fa poteva sembrare essere penetrato davvero in profondità, ma in realtà noi in Occidente però veniamo da una civiltà che invece la guerra l'ha sempre considerata come una necessità e come una cosa che si fa quando ce n'è bisogno senza fare troppe storie. Noi siamo, la nostra è una cultura che quando decide che un personaggio storico merita di essere chiamato Magno o Il Grande, di solito si tratta di un generale, d'accordo? Che sia Alessandro Magno, che sia Carlo Magno, che sia Federico Il Grande. Allora, grandi guerre, grandi vittorie, grandi conquiste sono nel nostro DNA. Ammirazione per i militari di successo fa parte storicamente del DNA della società occidentale, del modo in cui noi consideriamo la storia. Lo dico perché, anche se non ne so niente, però mi sembra di aver sentito dire che la civiltà cinese, per esempio, non è esattamente in sintonia con questo atteggiamento. La civiltà cinese, cioè la civiltà di un popolo che mangia con le bacchette perché mettere in tavola fra persone civili una cosa tagliente è veramente una roba da barbari, ecco. La civiltà cinese credo che abbia sempre fatto la guerra quando ce n'era bisogno, ma che abbia sviluppato molto meno, benché poi oggi in Occidente tutti legano Sun Tzu, l'arte della guerra, credo che la civiltà cinese abbia sviluppato meno della nostra. L'ammirazione per i militari, lo status sociale elevato, riconosciuto ai militari e così via. Ma è una provocazione che butto lì perché ne so veramente troppo poco. Nell'antichità, secondo me, c'è su questo un atteggiamento contraddittorio, mi verrebbe da dire. In che senso? In prima battuta mi verrebbe da dire che i romani, ma anche i greci, non erano schifiltosi per niente e non c'era niente nelle loro civiltà che assomigliasse al pacifismo nostro. Cioè non mi pare che ci fa... Poi magari appunto chi conosce meglio di me la letteratura classica potrà invece citarmi qualche autore, ma prima del cristianesimo io personalmente ho l'impressione che non ci sia un forte pensiero pacifista, un forte ripudio della guerra in quanto tale. Direi ancora di più che tanto più nell'epoca in cui la guerra la facevano i cittadini, la guerra era una parte comune dell'esistenza in un modo che noi oggi fatichiamo a immaginare. Un esempio che mi viene in mente spesso è che noi abbiamo ben chiara la figura di Socrate che ammiriamo in genere enormemente. E se uno di noi dovesse immaginarsi Socrate in una qualche situazione lo immaginerebbe che va al simposio per l'appunto, no? Ecco, o che passeggia lungo l'ilisso chiacchierando con i suoi discepoli. Ma Socrate è stato in guerra molte volte nell'arco della sua vita e Platone ne parla, ne parla e come. Quelli che conoscevano Socrate gli viene naturale ricordarselo. Ti lo ricordi durante la ritirata da Anfipoli? Mi ha salvato la vita lui in quel momento che gli spartani, tanto per cambiare, ci avevano sconfitti e ci inseguivano e lui si ritirava calmo guardando verso il nemico e si sa che quelli che inseguono, se li vedono uno che fa la faccia feroce, vanno a inseguire qualcun altro normalmente. Ecco, Socrate oplita in armatura al campo, per noi credo che sia un'immagine poco comune, era ovvia e banale invece per chi l'aveva conosciuto. Detto questo però, tutta la faccenda del bellum justum di cui tu parlavi, secondo me invece testimonia una contraddizione. Cioè testimonia una consapevolezza profonda, magari rinnegata, magari nascosta, magari imbarazzante, che però la guerra non può essere soltanto il fatto che io sono forte, ti attacco e ti sconfiggo. Poi i romani lo fanno, sia ben chiaro, ma sentono il bisogno di costruire un meccanismo che garantisca a loro che quando gli dèi ci guardano non potranno arrabbiarsi perché abbiamo fatto questa guerra, perché l'abbiamo fatta secondo tutte le regole. Poi di nuovo, molti di quelli che ci ascoltano ne sanno di sicuro molto più di me che non sono un antichista, ma mi par di ricordare che il bellum justum non voglia dire soltanto abbiamo ragione noi, avevamo dei buoni motivi, ma voglia anche proprio dire aver rispettato certe formalità, anche religiose. Gli avanzi di questo sono quegli usi che un'epoca più civile della nostra rispettava, tipo dichiarare guerra a un altro Stato prima di invaderlo, e che invece diciamo da molto tempo, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, da noi nel nostro mondo è passato di moda, ecco quella cosa lì. Però questo c'era e quindi alla fin fine ecco, benché l'Impero Romano, gli specialisti oggi ti dicano tranquillamente che era ed è stato per secoli e secoli una società totalmente fondata sulla guerra. Giano Canfora ha scritto di recente un libretto molto bello sulla guerra in Grecia e a Roma, ripetendo proprio questo concetto, non solo Roma, secondo lui anche Atene in realtà, la guerra navale, l'espansione marittima, ecco, ma per l'Impero Romano è una cosa che hanno già detto tanti altri, è proprio indiscutibile. L'intera economia di quel mondo si basa sulle guerre di conquista. Sono le guerre di conquista che fanno l'immensa ricchezza della classe dirigente e sono le guerre di conquista che forniscono i milioni di schiavi sui quali si regge l'economia romana. Ecco, e quindi è un impero dove la guerra è centrale, fondamentale, l'esercito è fondamentale, sotto l'impero lo diventerà sempre di più, sotto l'impero a un certo punto diventa una finzione che è il senato che nomina l'imperatore. Non è vero niente, lo sanno tutti che è l'esercito che nomina l'imperatore. E tuttavia dentro quella società c'è l'ansia appunto di circondare la guerra di forme che ci garantiscano che la possiamo fare con la coscienza pulita. E poi, e chiudo, arriveranno i cristiani, che sono romani anche loro, che sono lì fin dall'inizio, già dal tempo dei primi imperatori ci sono i cristiani, arriveranno i cristiani e per un po' di tempo diranno no, la guerra non si può fare per nulla, il soldato non si può fare, un cristiano non può neanche fare il soldato di mestiere, noi abbiamo verbali di processi a quelli che poi diventano martiri, in cui il soldato processato, perché se ne vuole andare dall'esercito, dice io sono cristiano, non posso fare il soldato. Poi vero è, e chiudo, che in quegli stessi verbali il magistrato di solito gli dice ma la guardia imperiale è piena di soldati cristiani e nessuno di loro rompe le balle come te. A quel punto però il martire risponde se la vedranno loro, io sono sicuro che il cristiano la guerra non la può fare. Bene, grazie, grazie a Alessandro Barbero, mi scuso molto se non siamo riusciti a eseguire le domande, ma mi pare che il filo del discorso fosse molto compatto che quindi andasse in qualche maniera riservato. Nel ringraziare vi ricordo che avremo un appuntamento con il professor Sandro Carocci il 22 di febbraio e parleremo di tutt'altro, e cioè di insediamento, paesaggio e territorio come fonti per conoscere la storia dell'Italia antica e medievale. Buonasera a tutti e grazie. Arrivederci a tutti e buonasera a tutti. Grazie.